Amici 2023, spoiler registrazione quinta puntata, salvo, a rischio Federica e Remona. Cosa succederà nel corso della quinta puntata del serale di Amici 2023 in programma sabato 15 aprile su Canale 5? Le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sono state delle nuove sfide dirette che hanno visto protagonisti i cantanti e ballerini di questa edizione. Ormai giunti al rush finale della competizione. E, al termine di questa registrazione, c'è stato spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast del talent show. Nel dettaglio, le anticipazioni sul serale di Amici 2023 rivelano che durante la puntata di sabato 15 aprile rivelano che i tre concorrenti finiti al ballottaggio sono stati Cricca, Federica e Remona. Il primo a salvarsi è stato Cricca e, di conseguenza, uno tra Federica e Remona sarà il prossimo eliminato dal cast dello show di Maria De Filippi. Chi avrà la peggio questa settimana? Il verdetto finale non è stato annunciato nel corso della registrazione. Ma sarà reso noto solo sabato sera, al termine della puntata su Canale 5. In attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato, la trasmissione di Maria De Filippi continua ad imporsi dal punto di vista audite e sul pubblico del sabato sera. Con una media di ben 4 milioni di spettatori a settimana e punte del 40% durante la messa in onda, nella fascia di seconda serata. Con una media di ben 4 milioni di spettatori a settimana e punte del 40%. Grazie a tutti